Non lo sta facendo nessuno, adesso va bene l'inaugurazione. Allora, sabato Tre Ponti, un appuntamento importante, di che cosa si tratta? Allora, stiamo realizzando l'inaugurazione, ci stiamo preparando per l'inaugurazione di un circuito di gara per fare gare in FPV drone racing, quindi sarebbe la nuova sport del momento, basato sulle tecnologie dei droni, per far divertire i ragazzi e cercare di tirarli fuori da quelli che sono i classici videogame. L'idea è quella di portarli in un ambiente esterno, socializzare e creare un gruppo sportivo con il quale riuscire a addestrare dei ragazzi non solo a pilotare i droni, ma anche a saperli conoscere nelle loro tecnologie, e quindi imparare l'elettronica, l'informatica, la meccanica e le telecomunicazioni, cose che oggigiorno anche nel mondo industriale sono molto richieste. L'idea è partita dall'associazione IES, di cui siamo cofondatori, e adesso, sempre assieme alla Proloco di Fano, siamo riusciti a creare questa possibilità, questa opportunità per il comune, per i giovani ragazzi del comune e dell'entroterra. Allora, in questo appuntamento che cosa possiamo trovare? Allora, in questo appuntamento, in questo bellissimo appuntamento, potremo trovare droni, piccoli droni da gara, potremo trovare degli occhiali Googles con i quali i piloti potranno pilotare i propri droni, quindi tutti i ragazzi che vogliono venire anche con i propri droni potranno trovare delle porte, delle bandiere e dei percorsi. Con dei sistemi di cronometraggio potremo vedere chi è il più veloce e quindi già in una prima giornata dichiarare chi può essere il più bravo della serata, del pomeriggio. Vi accogliamo tutti, vogliamo tutti i giovani, tutti coloro che hanno dei droni da corsa, partecipate perché sarà veramente molto molto divertente.